Il metaverso. Ne sentiamo parlare sempre più spesso. Ma cos'è realmente? È un luogo virtuale dove alle persone vengono proposti nuovi modi di incontrarsi, di lavorare, di fare acquisti e di esprimersi. Non è un futuro lontano. Dal 2021, infatti, circa 106 milioni di persone nel mondo usano le criptovalute e 3 miliardi di persone sono abituate a vivere esperienze in mondi virtuali. Noi tendiamo la nostra mano mettendo a disposizione la nostra competenza alle aziende visionarie pronte a mettersi in gioco in questo nuovo mondo. Per un brand progettiamo e realizziamo il suo mondo virtuale proprietario, dove la fantasia è l'unico limite e tutto il potere delle nuove tecnologie può essere messo a disposizione dell'obiettivo. Far vivere il brand in tutte le sue parti e in modi sempre nuovi. Attraverso le esperienze interattive evolute di oggi, tracciamo la strada per il futuro. Già da ora, il brand potrà presentare nuovi prodotti per far sondare la percezione della community, farli comprare come NFT ancora prima di produrli con un notevole impatto positivo anche sull'ambiente e sui costi aziendali. I brand potranno far partecipare la community alle attività artistiche attraverso esperienze creative su misura, così da consolidare il rapporto brand-community. Puoi fare fin da subito il primo passo verso il tuo sogno lavorando insieme a noi. Happy Beyond Reality